Ciao a tutti, oggi prepareremo i broccoli gratinati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, pecorino grattugiato, acqua, latte, farina, burro, pepe, sale e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e un cucchiaino di sale. Chiudere con il coperchio, posizionare il varoma con i broccoli, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Trasferire i broccoli in una pirofila. Svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale. Mettere il latte, il burro, la farina, il sale, il pepe e la noce moscata. Ed azionare il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 3. Aggiungere 70 grammi di pecorino ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 5. Versare la besciamella sui broccoli. Spolverizzare con il resto del pecorino. Cuocere in forno per riscaldato a 200 gradi per 10-12 minuti circa. Broccoli gratinati. Grazie e alla prossima ricetta. Spolverizzare con il resto del pecorino.